Erips è un po' una sintesi di tutto quello che io ho fatto in passato e ha avuto subito successo, sia un po' sulla base delle conoscenze che sono maturate nelle precedenti esperienze professionali e grazie anche al momento di splendore della Slovacchia dal punto di vista dell'internazionalizzazione, quindi è stato un paese molto attraente negli ultimi anni. Che anni erano? Stiamo parlando del 2003 ad oggi. Sono anni in cui le aziende italiane hanno visto nella Slovacchia un giusto approdo per i loro processi di internazionalizzazione e quindi noi ci siamo inseriti in questo contesto mettendoci nel nostro, ossia cercando il nostro ruolo è quello di rendere consapevoli gli imprenditori di cosa stanno facendo. L'altra anima è legata più alla finanza agevolata slovacca-europea, legata ai fondi strutturali e quindi noi abbiamo quella che io chiamo la fabbrica dei progetti, dove si fanno dei progetti a prescindere dall'internazionalizzazione e quindi sono progetti sia di investimento e sia progetti di formazione o ricerca e innovazione.